ho chiesto in diretta con la web con me ho visto l'età blu la pubblicità non boh ah vabbè, normale, siamo corrisse a squadre che so, cagliolo la pubblicità non boh eccola che è normale, siamo corrisse a squadre è vero, la testa con la web con me scusate, andiamo a vedere racca però mi servo me i dito è vero, la testa con la web con me scusate, andiamo a vedere racca però mi servo me i dito come stai davvero? stai disconando a vedere, vediamo vediamo racca però mi servo me i dito come stai davvero? è vero ha la safe, ha la safe, ha la safe vabbè, ora levo la web no, no, non levare si, sarà in usla come stai davvero? è vero no, 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 la leva va bene va bene va bene va bene va bene va bene madù che figa ci stai invitando 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 ma tu leggi commenti ci sono buttato da dove quelle guardana perché voglio arrivare in safe tanto non ci arrivavo no andate tutti a seguire tutto grande staccato ck r tutto grande unito staccato e empire tutto grande anche quello e anche andrea spazio con la andrea con la grande spazio andrea 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 si scappare a rimpire tutto grande 50 metri devo fare devo fare cinque diminuzioni da 50 metri io l'ho fatta ma l'ho mai l'ho fatta a te che ti supporto ogni tutti tutti i giorni ahhh la figlia la gamba e ma perché non ti compri la gamba riccardo zitto e ma perché non ti compri la gamba io pure io pure io me la devo prendere io forse quest'estate me la devo prendere ho solo cambiato nome o di basco o di basco riccardo passiamo a casa non so dove metterlo ci buttiamo allo squalo si allo squalo io mi butto allo squalo ragazzi allora se facciamo entrare mio fratello e li facciamo leader essendo che ogni gioco da telefono troveremo tutti i voti quindi è easy fare vittoria però non mi raccomando guardami 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 io non vado da un sacco di tempo sul secondo account io non vado da un sacco di tempo sul secondo account i don dopo cambiamo? Emanuele, se ti butti da l'altra dove ho fatto quella scala ti dà la missione. Perché? Cioè non tutta, quasi tutta. Sopravvivere nove volte dal principiano. Buttati, guarda, buttati. Guarda, buttati. Guarda, 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 mi chiamo su YouTube. Mi chiamo, Empiere, perché non quittate? Emanuele, l'hai fatto? Sì, mi sono puttato con la metanofici. Qui in tu piano c'è cinque scale. Ho visto io, vieni. Vieni qua. Qua, vai. Ti hai visto per tutto? Eh, ma vuoi io? Io sempre che c'ho su. Ma c'ho scritto un 307. Ma c'è scritto un 307. Non c'è molto. Raga, sempre. Salo. No, no, dietro di te, dietro di te, vai. Ehi, Riccardo, andiamo allo squadro, perché il boss da... Io voglio. Eh, perché già avevi poca vita. Fra, ma 21 metri sono... No, ma tu... Due e tre. Ho fatto la missione. E ho fatto la missione. E ho fatto la missione. Uh, qua c'è un po' di 10 e tre. Possibile avere una cioccolata a me. Ma perché non quittate? Fra, ma perché oggi hai d'oltre al gruppo? Guarda. Perché di fila. Fra, ma perché oggi hai d'oltre al gruppo? Beh, tu sei l'unico io. Ah. Fra. Eh. Perchè io ci venivo dal gruppo? Perchè io ci venivo dal gruppo? Ah no. Ah no. Sì. 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 Ma te che mi sopporti tutti, 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 tutti? Sì. 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 Da dove? Da dove mi prendi? A 10 di vita? Marcellata! Da dove? Da dove mi prendi? A 10 di vita? Carcelata! Perchè io non li trovo no. Io non li trovo no. Perchè io non li trovo no. Perchè io non li trovo no. Beh, disonfree di. Andrà ma solo con le due schemi. Hai? Io sì eh. Ma la web che non mi ha tolto? Andrà ma solo con le due schemi. Sì ho tolto pure la live. ma la web non è dato si lo tolto bravo vengo io ma ok tra il modello di me ha fatto fastidio intanto tu vieni incontro almeno li prendo prima sera ai ragazzi mi ha buttato si lo tolto bravo vengo io ma ok tra il modello di me ha fatto fastidio intanto tu vieni incontro almeno li prendo prima sera aia aia vi sentite agente sull'albero quanto la odio questo manco attorrato me lo faccio lato vi sentite non ce li senti si ma sto laggandola adesso vi sentite aia si 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 agente sull'albero quanto la odio questo manco attorrato me lo faccio cosa che ci sono c'è le pingue aaa trecento di pingue aaa trecento di pingue sono scelto da lana ma l'ha venuto per quanto parello l'ho parlato la vita e il francesco e raiati ha chiesto perché le spalle vada raiano sfremai con delle volo e l'ha scritto di dirti perché le spalle vada come si può costruire come non si può costruire è difficile che lag mi ha trattato si deve costruire devo fare due donate chi da 50 minuti allora facciamolo si deve costruire non li tol non li tol non li tol non li tol scusi ma perchè perchè non parla ben in 0 ma perchè torna perchè sua sorella le ha tagliato le cuffie perchè sua sorella le ha tagliato le cuffie quello è il suo colo spas quello è il suo colo spas manone quanto tu hai 10 quanto tu hai 10 10 10 devo fare tu ti ha andato qui ma infenso ai canoni devo fare tu ti ha andato qui ma infenso ai canoni che fa ah! quella gente che mi viene quella gente che mi viene con la tua quella gente che mi viene con la tua quella è difficile vai un'altra non facciamo ragazzi fate il leader la beneditta che c'è il livello più basso 47 io sono 70 io sto al 51 e riaccendo le viette io sono spettatore 7,7 e mezzo raga sono spettatore facciamo giocare ragazzi facciamo creativo si creativo metti creativo raga ma io sono spettatore vi dico io quando avviare perché io sono spettatore facciamo due in due no no andiamo nella ZC andiamo nella ZC no 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 è brutta la ZC è brutta la ZC aspetta è normale tornatelo tornatelo ha tagliatelo questo casarella abbastanza ragazzi ma chi sta facendo ragazzi ma chi sta facendo com'ora Emanuele ci ha chiamato chiudi se no si sente quindi aspettate mi dico io quando avviare ma immaginato 5 chi è piaciuto l'altra parte del campo è arrivata sta poi andiamo facendo mi provi tu e se arriva 5 che potevo spegnere ma e facciamo l'Emanuele vai però tu l'Emanuele andò a rispondere due sì 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 io che andiamo pure a certo passi così no 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 ci contengiamo così la metto io venita no l'ho già messa io la mia più bella vabbè andiamo è masquadra 2 abbiamo in certo passi no non è andato in certo passi sennò io da solo ma io sto da solo e tu devi parlare con la c'è il spettatore c'è il spettatore la benedetta aspetta bravi iniziato le parti no dai per favore bene così ci concentriamo meglio ma che c'entri solo quel gioco cioè quando non è figura vabbè andrea 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 ehi mio fratello mi è andato a prendere le cuffie da mia nonna allora le manole le devono andare squadra 2 per favore contro contro li abbiamo si ma non vabbè non sono ma ma troppo scolibrate no chiudi aspetta una terra ecco l'emmanuele fucciderò poco di vita bocca da dietro comunque la benedetta parla ma perché tu sarei la che fai le cuffie che c'è che c'è che c'è no no parlo parlo un secondo l'anno ma dai che c'è bravo 45 euro federico pianello grazie mille per la donazione ma 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 ecco mi aveva disintegrato che non arrivò no 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 fai da francesco eccolo da me a terra ok aspetta raga ma ci aprite raga ma ci aprite raga ci aprite raga ci aprite ci stiamo spumando ma io io oh e' raga 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 nu 마 raga 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 andrea guardalo E' il mancato parte Mi sono allenata E' lì! Nooo Non me lo stanno facendo apposta stanno giocando in piano Comunque io gioco da computer Pico 2 Sì, stavo ferma Mannaggia tutto Non vale perché uno sta Stavo ferma Questa è vinta Ah no no Ah l'ha ucciso Oddio Stavo ferma Stavo ferma Stavo andata in ciotto Per averli Non andare in ciotto No no Poi li lascio un po' Con l'enza Come ho detto Francesco Guarda guarda Che figurano Guarda 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 guard no 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 perchè se poi spammiamo fra secondo me non state giocando seriamente no stanno giocando guarda questo che viene da dietro guarda guarda ma guarda questo che viene da dietro come pure balla e vabbè si no se tu vuoi fare 3 vs 1 se sfamalo così non ballo oddio tengo 50 di bingo oddio il bingo mi sta arrivando a mille oh mio dio oh mio dio il bingo millee sono tutti e due dal mese mi puoi dare una mano l'emanuele è fatto fuori che si guarda guarda il picco 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 ma tu l'emanuele è a bacio di vita si è curato si è curato vaffanculo eh vabbè e sci quanto ci siamo? aspetta 5 a 3 dai si sono andato qua grazie per lì ma che dovete fare? gg ragazzi gg gg che cos'è attuarsi? ma non veniteci da dietro ma non veniteci da dietro ma c'erro ma datenevo è difficile eh easy 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 ma così easy easy ho quattrocento ho quattrocento di bingo era quattrocento ho quattrocento di bingo non ci sto ho quattrocento di bingo distrutta terra io vengo tre incredibili aspetta ok ora ne vengo tanto arrivo e mo annaggia sto gatto e vai bitch era easy 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 le mosquisi me lo faccio tutto easy 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 c'è nel video delfino e devi che raga qua c'è un cambio allora io che andiamo nell'accademia voi due nel team ok? ehi è una bruna mia what the fuck ci sta da prendo? ci sta da prendo? cioè cos'è sta da prendo? io che conosciamo parte di da prima eh quindi questo vuol dire che c'è da parte ma ci sono veri abbandonati appunto guardate rama c'è attuarsi no 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 l'ho fatto 130 vai no ci ho fatto il pesce e da che ho spai? nooo ma ci dovete mettere nel team però non so a me mi hanno tolto al team le ho procurato un sacco di jodori mi levano al team va bene coprimi 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 i due secondi eh attenta qua c'è Kiko qua c'è Kiko mena ok ci sono stanno qua sopra mo che staccano no apriamo no 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 c'è sopra ah so vabbè 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 comunque io stavo eh no delfino bari vabbè no delfino bari vabbè cosa che è successo? delfino bari che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? ma vabbè che c'è? che c'è? troppo forti ma no che mi ha messo il muro? io per sbaglio no sta arrivando l'emanuele mannaggia mi ha fatto 200 30 30 è arrivato e mi ha fatto 200 cioè così si gira 200 in testa noi ci siamo messi qualche cosa anche dai ma non li apriamo attento da qua attento anche aspetta una terra ehi scambone che cosa bisogna trovare qua guardami solo quella la sulla fascia che non mi fido stiamo aprendo attento che ci arrivano da dietro da dietro da dietro da dietro da dietro no è un buonizio copriti copriti 100 no se aveva 30 di vita mi aveva lasciato 30 di vita quello spammato anche a me hai fatto tutti 200 sono me aspetta ragazzi a 15 dobbiamo arrivare dai 200 mi fa 200 mi fa 200 mi fa 200 sta pompa si davanti e da dietro si davanti e da dietro oh ma cazzo faccio io si si spammatori 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 forse due ieri me lo dita sei una bestia me lo so ma sono 200 fate voi uberto fra ma sono 200 si fate 200 con quel cazzo di pompa ah vai attenzione io proprio di qua proprio di là alleluia ho fatto un 201 e ora questo faccio 200 eeeh ah due 200 e vai io non gioco più perché da quando dicevo ho fatto manco una vittoria perché la vera è una difficilissima attenzione no no li dobbiamo aprire una terra pusho io li vado da dietro ogni divata da dietro beach da chi si sono giochi si sono 11 ci sono 11 ci sono 11 cospesi 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 un po' fortissimo no ma la switch i giochi è no da computer no le manuole ma lo devo sbagliare no 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 da dietro 70 70 70 nei shoot il muro di vita il muro di vita no 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 appena la francesca giocano cosa appena se ne va a francesco da giocare no 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 facendo due di due è impossibile no se si mette pure lo so che non lo faremo male attento per i miei vita nuova delle mani alla piccola e manuale l'avevo sbagliato quelli stanno facendo i pazzi stanno perdendo no perché modificato il muro benedetto non ho sbagliato perché mi stava laggando un portillo ma cosa state perdendo 13 8 guarda sto qua apri 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 li lancio il compagno in faccia apri 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 hehehehehehehehehehehehehehehehe e anche anche ah dai vinceremo questo qua abbiamo vinto eh eeeh li stiamo hacker hacker素 whole chama no no esce da dentro esce 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 da qua se no 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 perché di nuovo mi vengono da dietro aspetta 191 e mi hanno fatto 180 la mano cosa mi ha fatto 200 così a cosa del casio io ho fatto 180 all'altro ci ha fatto 200 tutto non so quanto ti aveva fatto a me di rinorare 180 poi mi entrano nel box da dietro davanti e da dietro da dire la sinistra e da destra e forza e quelli vanno davanti da dietro allora dobbiamo stare in due box diversi tu stai tu sei da una parte dell'altra perché se noi io non riesco a modificarmi allora siamo nei box vicini va bene tu ne fai uno e ne faccio un altro accanto io lo faccio qua ok vai questo mio ora sai però fa 200 vedi che ti fanno 200 vedi a un fatto c'è sì ma ben possibile fare 200 con questi che fa mano spammiamo di aeree spammiamo da r siamo in due parti diversi tu stai chi l'ha visto di qua dobbiamo andarli da dietro li dobbiamo distrarre non l'hai capito io vado da che ho arrivato dietro sono tutti tutti noi dobbiamo scenario sono no 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 dono no 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 non ci vedo non lo fa fatto qua ma quando fa questo quanto lì ho fatto mai scambi a r Mannaggia, non gli entrano i porti Guardo, guardo Non stava arrivando sto pompa di merda No, mi carica Sto di pompa di cacca Hai visto come dobbiamo fare, hai visto? Sì, tu sei di là Ti buscano tutti e due a me No, devi volersere al contrario Vai, vai Che c'è Simone? Anche No, posso Che fratello E che sto giocando a forti Tanto dobbiamo provare materiale E noi colpi 40 80 Ho 40 No, ne ha fatto 200 Sto nabbo Stai, stai, stai Aspettate, c'è un po' scarico Andrea No, è possibile 200 Che vuoi? Che ti vuole, è chiamata Che ti vuoi? Non posso Ha detto un po' Uno di vita a casa Uno di vita a casa Uno di vita a casa Ma questo è il caccio Senza tante l'anno è rimasto Oh, spammi troppo Quanto c'entro E che fa? Sono più dentro Da me l'emanuele? Non posso Non ho più idea Quanto stiamo? No Quanto stiamo? Non lo so Non posso venire No È impossibile Davanti e da dietro Andrea Mi avevo fatto il vicio Mi hanno ucciso Perché non sei una travestita Ma ci schiamo? Oddio Che rimonta Che rimonta piccone Oh Chi ti ha detto? Vai, vai, vai Pariggio a casa Pariggio a casa Chi vince questo? Maggi Sì, sì Ma vedete come Vi rimontiamo Ma non vedete? Oh, li dobbiamo rimontare Francesco è guonizzo Uno squagliato Uno è squagliato Che corona c'è pure Buccia del cazzo No Mi devo fare il pesce Non vuoi State attenta Ok Andrea posso giocare? Dai Facciamo le box pvp Ma ci sta curando pure lui È vero Sto a metto È c'era Lo sai che lo batto? Eccoli da qua Che lo batto è c'era È c'era C'è lo scolpio E poi Ma tu come fai? Io a fianco a te sto Sanno tutte e due da me Sei morto No Eh vabbè fuora no 30? Che c'è? Perché io non riesco mai a vincere Da dove va è troppo difficile Non ci credo Nove di vita grazie al casio Attenza 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 Calvia vinci arriva Calvia Non contare Non contare Non contare Non contare Oh ragazzi abbiamo vinto 15 a 15 ma che botte ma che botte 15 a 3 ma non siamo 15 a 15 eh si però stavamo a 14 appunto no ma stavamo a 14 stavamo a 14 no dobbiamo arrivare a 16 no 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 non avete vinto abbiamo vinto stavamo a 14 sono arrivati a 15 e vedo che ci è ci ci abbiamo vinto non è vero niente 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 si neve sei Speakuno non è vero niente io ho fatto la scommessa se perdevano 15 a 8 passavamo all'accademia ci siamo impegnati voi abbiamo radi delle mani vabbè sì ma solo e ma se a questo non ho niente ne gole 90 90 ma andate in ciocchi di fatti ma andate in ciocchi di fatti ma andate in ciocchi di fatti 16 o 16 ragazzi io devo giocare il mio fratello adesso ragazzi io devo scendere questo io pure faccio no vabbè io non devo scendere per te andate in che senso dove giocare il mio fratello devo giocare io no no io l'esercito te lo do perché mi balli e si a banda guarda guarda lo smix a banda guarda la fine io pure ciao no click no click no click zitto ma se non devo giocare ma ce ti faccio giocare di giocare salutate grazie no no è finita le abbiamo stragiati e la puttana di mamma da mi sono vita in 18 parti va bene non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Delfino, allora, allora, tu, e c'è una piccola domandina, tu, quando io adesso non ti invitavo, come mi sentivi? Ok, ottieni altri altri... Eh, ripeti. Io, amore, che adesso stavo giocando con gli amici miei, non ti invitavo. Come ti sentivi? Aspetta, digli ultime parole. Non giocavi con i tuoi amici? Quando io stavo giocando con gli amici miei, tu, che stavi da solo, come ti sentivi? Eh. Come ti sentivi? Quando mi non è spulso? Eh. Triste. Eh, mi sento la stessa cosa quando voi giocate con un'ombra incredibile e non mi invitate. Eh. È stessa cosa. Comunque tutti i tuoi amici mi siamo antipatici. Eh, lo so, pure, pure loro. Dicono che si è scarso, infatti io qualche volta dico, deve giocare, tipo adesso io ho detto, deve giocare il mio fratello, se vedete che gioca con del filo pari, si vede e sta giocando mio fratello. E infatti sto giocando io, però loro pensano che sto giocando mio fratello. Aspetta, aiuto. Se noi si è rimasti pure con loro. Però, vabbè. Sì, vabbè, perché il cinema è forte. No, ho sbagliato. Scusa, ho sbagliato. No, il cinema non è forte. È scarso il cinema. E chi dice che sono scarso? Lo dice lui, che fra... Beh, non ti vogliono, ecco. Ma perché? Ok. Non ti muovo dalle unici pure lui. Non sta online o non è in qua, là. Sì, ha ricevuto. Non questo online. Come non ti faccio giocare? Cioè, ti ho poi guidato, se vuoi entrare. Cioè, ti ho poi guidato, se vuoi entrare. Ma ora facciamo un liturgione, almeno troviamo qualcuno di più basso. Secondo me il suo... Allora, io... Tu mi segui sul canale mio, vero? Quale? Quello online... Il tuo canale di YouTube. Mi sta facendo entrare... Ripetami... Ecco. Mi dici come si chiama? Si chiama... Come il mio nome. Come il mio nome sofforto. E' trovato? No, non trovo il trattino basso. Questo potrebbe essere un bel problema. Il trattino basso! No, non trovo il trattino basso. Beh, mettilo alto. Vedi, a fianco a quello alto c'è quello basso. A fianco a quello alto c'è il più. Vedi? Tu per mettere la ghiocciola... C'è la schermata, apri tutte le lettere. Poi c'è un'altra schermata dove ci sono i numeri, gli occioli, le virgole. Vedi? Là, dovrebbe stare. Virgole... Vabbè, provo facendo il suo trattino. Fai niente lo stesso. Te lo trovo allo stesso. Tutto attaccato? No, metti lo spazio. Empir, spazio. Empir, Andrea, 11 iscritti dei due video. No, devi mettere il forzo trattino. Andrea, 08? No, Empiria. Trattino basso, Andrea, 08. Empire, Andrea, ti chiami? Empire, Andrea, 08. No, non sei tu. Devi mettere il forzo al trattino basso. Non lo trovo, vabbè. Ma che cosa devi fare? Devi trovarmi. Ma tu ti chiami Andrea Gamer? Bravo, ero quello io, ero. Poi ho cambiato. Non riesco a mettere il trattino basso. Vuoi che cambia nome? Aspire, cambiamo nome. Scresso del pad. Cioè, le da stare a riuscire in disini, se lo prendo e ti spello. Perché? Perché rompi. Perché io chiamo papà? Che è papà? Ah, l'ho trovato. L'hai trovato? Allora... M, P, I, R, E... Tutto grande? Un... Un... Un trattino basso. M, P, E, A... Ok. Il primo? Vedi, quanti c'è sono? Vedi. Quanti video hai fatto? Levo la... Dammi il trevolo. Due. Per forza. No, non ho fatto poco video. Allora, non sei tuo. Aspetta, io sto cercando... Non lo so... Cos'è? Empire. Un trattino basso. Vabbè, metti squad. Leva la cassa! Leva la cassa! Che problemi ti dà? Mi dà fastidio, leva quella cassa! No, mi scusa, ti dà di fastidio? Papà! Leva la cassa, perché non sei unico qua che sta ascoltando. Papà! Papà! Vedi, tengo due iscritti e venti video. Delfino, bari, andrò, bari! Di si attivano la video mio fratello? Ah, ok, già trovato. Ok, sei pronto adesso vado. D'altro, tanto. Ah, ok, già trovato. Stai guardando la live? Stai guardando la live? Delfino, la stai guardando? Delfino. Delfino. Delfino.